Così, ecco, ispirandoci a Barone, nel senso, cambia i tuoi occhiali, guardala da un'altra prospettiva, no? Che cosa ci può essere se io, per esempio, sbaglio la penteggiatura o se metto un'altra intenzione. Ogni testo può, onestamente, essere proprio un'altra cosa. Sei pronto? Sono pronto. Grazie, caro. Sì. Ok, ma, sento qua, io, io, ma io sono io? Eh, tu, sei tu. Eh, vabbè, ma io, io, io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. Tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. Eh, senti, vabbè, ma io, io, faccio la mia cosa, secondo te? Tu fai la tua cosa. Eh, e se ci incontreremo sarà bellissimo. E ovviamente non ci sarà stato niente da fare. Eh, ok, ma io, allora, io sono io, tu sei tu. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. e facciamo un applauso. No, tu, tu non sei al mondo per soddisfare le tue aspettative. Io faccio la mia cosa, tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo sarà bellissimo. Eh, ok, io, tu non ci sarà stato niente da fare. Niente da fare. Io sono io. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. Io faccio la mia cosa. E tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo sarà bellissimo. Altrimenti non ci sarà stato niente da fare. Io sono io. No, no, senti, allora, io sono io. Tu sei tu. Non hai capito? Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. No, io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. Tu non sei al mondo per soddisfare le tue aspettative. Se ci incontreremo sarà bellissimo. No, io faccio la mia cosa. Tu fai la tua cosa. Altrimenti non ci sarà stato niente da fare. Niente da fare. E ora la versione originale. Io sono io. Tu. Sei tu. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. Tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. Io faccio la mia cosa. Tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo sarà bellissimo. Altrimenti non ci sarà stato niente da fare. Grazie.